C'è da lavorare tanto, come tutte le squadre, siamo all'inizio, quindi c'è molto da lavorare, c'è ancora tempo. Questa è una fase complicata, una fase di fatica, quindi direi che siamo, come ho detto prima, in linea con quello che erano un po' i programmi. Abbiamo fatto un programma proprio in questo senso, cercando di avvicinarci man mano a partite che siano ancora più impegnative, quindi abbiamo giocato ieri, abbiamo giocato oggi, giocare in due giorni consecutivi non è facile, anche se chiaramente abbiamo alternato un po' i giocatori, però insomma sono bei test e questo ci danno delle indicazioni importanti. Un ragazzo giovane che deve capire quella che è un po' la filosofia del nostro gioco e soprattutto quella che è del calcio italiano, perché chiaramente viene anche da una scuola un po' diversa, però un ragazzo estremamente promettente.